Buonasera a tutti e benvenuti a Saniovi. Buonasera a tutti e benvenuti a tutti e benvenuti a tutti. Buonasera a tutti e benvenuti a tutti e benvenuti a tutti e benvenuti a tutti. Buonasera 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 a tutti. e quindi ho messo dei piloni in pratica in legno, autorizzati ovviamente di ducche, quindi i piloni che vengono messo dentro, dopo vengono tamponati con altre tiare, con solidarie e dopo potremo mettere le nuove barriere. Ho pensato che sia una questione di dignità, l'eroe dei palmi e chi ha questo segnale veramente fa parte delle storie, sono anche i molini in fondo, ecco perché noi non cambiamo le barriere, a consolidare le spondi, quindi il larging, e anche a dare una certa importanza di sicurezza, perché come dicevi, per tanti ai suoi non è mai stato fatto nessun lavoro del genere. E come ho spazio alla rubrica Novis dal Monte? Un viaggio tra l'ecomuseo dal Friul Vinesi e Giulie, dagli smonti fino al mar, lo propone un suggestivo documentario Lent Friul Palmont che lo ha realizzato grazie agli aiutori della regione. La pretitola La Memoria della Lattiere al Vul fa conoscere in regione e in tutto il monte, i 7 ecomusei della regione, attraverso la rete, dalle 140 comunità che aderiscono a Lent Friul Palmont. Sentiamo il Presidente, Loris Basso. Un documentario nuovo di Cessi Tratial. Un documentario che voglio fare come Lent Friul dal Monte, con il sostegno della nostra regione, per documentare le bellezze che vengono da questa regione. Purtroppo in chi non è in scala, che non possiamo condividere le presenze, si abbraccia, e vi voglio presentare a Torpa al Monte, attraverso i nostri fogoli, le ricchezze che vengono. Una di queste magnifiche ricchezze che tanti svolte non c'è, che non conoscono, sono gli ecomusei. Ecco che, attraverso la condivisione e l'aiuto di Roberta Cortella, che è una regista professionista, di visionare i 7 ecomusei, riconosciuti la regione, che partessero di Maniago, attraverso la Cernia e vengono fino al Carso, da bellissime bellezze naturalistiche che vengono in Friul, che il capo fa in muta, anzio di promuovere la nostra regione, attraverso i nostri sfogolari che vengono a Torpa al Monte. Il documentario apponta le scritte curate dal regista, Senegliatore Furlani e Roberta Cortella, storiche firme dalla trasmissione di Rai 3 e Geo e Ngeo. Le riprese stasso di Marco Leopardi e ha sclarito il significato di queste ore, e le stesse Cortella. L'ente Friul Palmont al me ha domandato di fare un documentario per far conoscere le attività dei 7 ecomusei della regione ai furlansi in Torpa al Monte. Ha stata l'occasione per tornare in Forza e Leans tra i furlansi e i Soradis, ma anche io sono una furlana che sta fodeciasa, sono di Montreal ma vicino di Roma, e quindi spero di cercare le parole e le immagini per così, in qualche maniera, ravanare talcò dei furlansi che sono lontani. Il documentario è un insieme di luoghi e di situazioni fresche dalla cernia al mar di qua e dalla laga, attivitàs vecchi e novi, tanti non li conoscevano, non ci sono io, e sono sicura che non ci sono tanti furlansi in patria che non li conoscono. Soradut, sono giù da insercia di storie dei senni di tutte le generazioni che mi hanno contato del soleano col territorio, con le tradizioni, tradizioni che spesso mi seda con l'innovazione, con l'inventiva furlana, e, diciamo, la voia di partire in davanti un sabato con intelligenza e prospettiva. Dalla narrazione, le storie si intrecciano l'una con l'altra per contare un friulino di vigni, ma ben plantata la soccera, a poter essere come un arbol, che cambia le cose, ma le radici sono sempre le stesse. spero che il documentario, al posto di diventare un'occasione per tutti i furlansi, deconosceremo la soccera, come mi ha succeduto a me. Ma spero anche che, all'invoie i furlansi più lontani, magari che di seconda o terza generazione, a tornare a rinfresciare il valore della nostra identità. E all'eduto per l'usnod, l'appuntamento alle perdomanze, in prima e alla stessa ora. Mandi. Mandi.